La Forza Italia si riunisce qui a Santa Maria Capovetere, è un partito che ha difficoltà a livello nazionale ma anche in provincia di Caserta e in Campania in particolare ha sempre dato il suo contributo. Che cosa vuol significare questa riunione di questa sera? Ricominciamo dai territori, quello che sappiamo fare, interpretare i sentimenti, i bisogni, le istanze, le tensioni, le passioni, anche le vivacità dei territori e proviamo a farne proposta. Partiamo qui da Santa Maria dove abbiamo una prospettiva importante anche dal punto di vista elettorale mettendo tutto insieme. Partiamo da Forza Italia perché ci riteniamo protagonisti e capaci di guidare i processi ma ovviamente nulla si fa da soli. Siamo qui per aprire le porte agli amici del centro-destra, alle altre forze alleate, alle sensibilità civiche, a quanti hanno voglia di contribuire per dare una sterzata, una svolta a questa città.